Comunque siamo in live da 1 ora e 30 Ehm... è piacevole Devo dire che A noi non fanno impazzire le live Non ci facevano impazzire soprattutto Ma con un gioco come Fortnite è molto diverso Perché quando devi fare un GTA, un Minecraft, un Roblox È molto più stressante ed impegnativo, ve lo garantisco Con un gioco che va semplicemente giocato Vabbè, perché si gioca e basta È un altro discorso, è davvero... così è davvero piacevole Non c'è preparazione, non ci sono punti morti, quindi Ehm... è questo play, eh? Perché io sono caduta tremendamente prima Quindi vado nella casa... C'è un player Ok Sta arrivando adesso, era in altissimo Ehm... e io dove vado? Vai in questa casa? Devi entrare in una casa veloce perché lui sta arrivando Vado, vado, vado La prima che mi trovo di fronte, vai Avrei voluto vedere dove scende Prego Ho orecchia aperte che se scende lì devi staccare subito Eh, se trovo un'arma Ok, io sono equipaggiato Però ora sono munizioni, ma mi prendete in giro? Calma Shieldino e munizioni, grazie Ce la facciamo, ce la facciamo, lo massacriamo Fede Sono carico, secondo me questo è un altro game che va molto bene Ok Salvo il tipo che ci ha matto Cerco di essere carica con te Perché magari è... Oh, non c'era un'arma, Steph, in tutta la casa Mi spiace Un game che va molto bene Lo tiro a su di... a su di scildini Magari tirati in testa fanno male Ok Prova Ho mitraglietta silenziata Va bene, va bene Meglio di nulla Non abbiamo capito in che casa... È vero No Sicuramente nella mia Perché stare in alto Sarà sceso in un soffitto Ma io non ho sentito rumore Non c'è neanche cesto in sta casa No, mi spiace di no Grazie mille alla donazione Barbara Vargiu Ok Grazie Che puoi Vargiu È sardo come cognome Sì, penso di sì Ah, quindi è sardo come noi O magari è genitori sardi Non lo so Non voglio dire fesseria Colpi, 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 colpi Carica, carica Ok, esco da qui Lag Vediamo se nella casa A fianco a quella di fare Altrimenti Era più dal mio lato Dove ci denti sarà? M6 verde, c'hai? No, non ho nulla Mitraglietta Te l'ho lasciata lì per terra Grazie Prendo anche le granate Seriously, Steph Seriously Oggi non so fare nulla Seriously Continuo a non saper fare nulla Non è vero, dai Ok Lo vedete? Fuci la pompa Io l'ho visto Dov'è? In questa casa Ah, davvero? Sì, sì Eccolo L'ho fregato, è vero? Sì, è morto Gli ho dato fastidio Ma non è morto subito, eh Allora aveva un pompa verde Un pompa viola Cioè il loot di spiaggia snobber Era tutto in sta casa Io ti direi Vabbè Vedo tutto, sì Comunque ne ho approfittato Perché avevo la doppia missione Quindi ti ho rubato volutamente questa kill Che è una di fare un'altra uccisione con le mitragliette Un'altra di fare danni con le armi silenziate Questa era la mitraglietta silenziata Io non ho sparato Ah, hai proprio sparato No, io l'ho fatto quella scala lì Volevo prenderlo un po' in giro Devo essere sincero E tu l'hai ammazzato Non si prendono in giro Lo so È brutto Però esce da solo Che cavolo te devo dire Che cavolo ci faceva? Non ci vuol dire Quindi mi sono fatta due chest Perché penso di aver completato Sia il danno silenziato Che la seconda di Ok Blah, blah, blah Sei molto brava Mitragliette Molto forte E ho il pass battaglia Bisogna fare i livelli Andate sulla casa segreta Certo che adesso ci andiamo Tranquilli, tranquilli Solo che hanno nerfato Tutte le spiagge snobber Come loot Perché ci andava troppa gente Era troppo fuori mano Quindi secondo me L'hanno nerfato per quello E quindi lì Si trova un po' meno chest Il posto segreto È un po' meno segreto Però comunque Di solito qualcosina c'è Quindi comunque È worth andarci Semplicemente non ci scendo più Come prima casa Perché la casa moderna Tende ad essere più bilanciata Perché sto continuando A bullare in questo Eri Eh Ci sono entrambi Questa casa io non l'ho fatta L'ho fatta io? No 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 Qui dietro Maledetto Dov'è? Qui lì Lo vedi? No Ah, ok Ma che cavolo vuole fare? L'ho colpito Colpito Buu Vai Buu Ti abbiamo prendo Buu Il blu lo volevo io Vabbè dai Non è altro Era No No, erano tutti e due Quindi l'altro non è sceso solo Quindi giustamente Lui se l'è giocata Ma credo che ce l'hai già No, ce l'ho già a verde Grazie Ok Vabbè, manca solo la casa segreta Questi due non li ho capiti Grazie mille per la donazione Golden Monster Mi siete bravissimi Grazie Bello, tanti complimenti ci fanno Steph è sempre sbagliato Sì, sì Io sono sempre con la testa tra le nuvole Credo Quasi sempre in tutta la mia vita Penso sempre a cose che non devo pensare Sì, no Questa è una cosa che ha realmente Non è che fa finta per i video Perché non è che qualcuno pensa Ah, no dai Uno così fa finta No E fuori casa sono peggio Perché fuori casa io penso alle cose di YouTube La gente mi saluta Mi fai tutto Io Sono Sono lì che guardo Allora, due ceste, una testa, vai E penso Allora La mia schifo La tua M16 verde Di nuovo C4 che è proprio schifo Però ricordati tutte le munizioni che qua si trovano Oh, bello Bello, bello Io ce l'ho da Bello, lo so Te l'avevo lasciato No, non me lo cambiare Grazie Nella foga Di prendere le munizioni Quanto lontani? Poco, poco Ci è andato anche bene Meno male Perché la zona sta già chiedendo No, io ho controllato subito Perché ho detto Vuoi vedere che magari ci trazioniamo troppo E il problema è spiaggia snob è quello infatti Grazie mille per la donazione Matteo Mascaro Che ce l'ha già fatto un'altra Quindi grazie mille per le due donazioni Addirittura due Poi qua Poi qua Un po' di coso Vado io sopra Tu inizia a correre, va Sì, infatti sto pensando di iniziare ad andarmene Con il pompa verde non era male Ma Pazienza La molliamo lì Ok Non c'era la cesta, mi pare Ok C'è la montagnona qua Ah, i mazzi Eeeh Quando ci distraggono col fight Prendiamo pochi mazzi dalle case Da dove vuoi passare? Io passo da questa di sinistra Secondo me No, ho fatto tutto il giro dalla montagna No, troppo lungo Ok No, ma salirci sopra C'è la stradina Ah, no Che noio Gne, gne, gne Prima anche avessimo i cecchini per sniperarli Da quanto giocate a Fortnite? Noi giochiamo a Fortnite da quando avete visto i video Non abbiamo praticamente mai giocato Avevamo giusto fatto un video con Gonzo Per provare il gioco Esatto Io voglio spiegare la nostra storia su Fortnite Venivamo da tantissime ore di PUBG Come abbiamo detto prima E quindi ci faceva schifo Fortnite No, abbiamo provato Fortnite E il fatto è che non si mira E quindi questa è già una cosa particolare Non è che siamo molto abituati Sì perché PUBG ti permette di mirare col mirino Per intenderci Perché non ci gioca Più devi buildare Perché altrimenti muori Quindi erano delle meccaniche di gioco molto particolari Abbiamo detto No Non mi piace Voglio giocare solo a PUBG Invece poi Abbiamo detto Dai proviamo a farci qualche video E ci siamo allenati ovviamente un pochettino Prima di farci dei video Ha iniziato a intrigarci Grazie a YouTube Alla fine A fare ha fatto schifo per più tempo Rispetto a me Sente E quindi era lì che si inventava No ma fa schifo Non lo sopporto Mamma mia Ho giorni In cui divento pazza E il gioco mi fa schifo Poi l'indomani mi piace di nuovo Però poi No ma Ma quello che lo da tutti A livello anche di ore Tipo io magari a un certo punto sto giocando Muoio in modi stupidi E dico il gioco mi fa schifo Non è possibile che si deve buildare Poi vince È ingiocabile Poi due minuti dopo dico Dai mi faccio un altro game E allora lì mi ripiace Poi magari vinco E diventa il gioco più bello del mondo Io credo sia la storia un po' per tutti In questi giochi Sono gli sparatutto Che ti fanno diventare pazzo Anche giochi come League of Legends Se ci pensi No e anche lì ero uguale Lì ero uguale Sono quei giochi che ami e odia Allo stesso tempo Ma è giusto così È un rapporto particolare Però alla fine ci si diverte Comunque ormai ci giochiamo da qualche mesetto Verro? Non lo so quanto è passato Oh credo che lo portiamo da due mesetti Perché noi giocavamo a Fortnite Quando era uscito Il single player Il single player Noi abbiamo Abbiamo il pacchetto fondatore Che a fare è piaciuto Ma no A me piaceva tanto Perché è troppo facile Io ci ho giocato Eh ma quando andavo ai 20 Diventava più difficile È ma È la prima parte Cioè 15-20 ore di gioco Per iniziare a un livello decente Perché Stef mi ha mollato E quel gioco va fatto comunque in team Anche la Ioneana ti avevano mollato però eh Sì tutti mi hanno mollato In realtà tu hai mollato prima di Anna Mi Oh forse no No mi sa che mi hanno mollato tutti No mi sa che tu eri l'ultima che cercava di restare Ok sì 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 Eh quindi Perché poi c'è la Final Fantasy Dove abbiamo mollato tutti Anna Povera Ah esatto sì Poi abbiamo giocato a World of Warcraft Con Lion and Anna Sì sì Eh vabbè le nostre storie E infatti non mi piaceva troppo giocare con Sconosciuti Mi piaceva giocare insieme a voi ovviamente E tutti mi hanno abbandonato Quindi ho lasciato la storia del PWL Lì a metà ed è ancora lì Poi è uscito Fortnite Battle Royale Appena l'ho provato Mi ha fatto schifo Poi mi è piaciuto Adesso mi piace Un apposto col mondo In questo periodo Sì Una storia bella Una storia E mentre stiamo chiacchierando Potrei fare un libro Cos'è quella roba blu? Perché a me sembra uno shield Ma siccome non carica Non è frattempo Faccio un po' di materiale È uno shield Ma quindi non hanno lootato il market? Boh magari l'hanno lasciato Perché è talmente Chi è stato? Io Mi hai fatto scendere un po' Posso smettere di sparare colpi a caso gioco? Pensavo di avere Tutti gli items Poi ci sono anche le munizioni Una cesta No l'hanno lootato Sì ho capito che cosa è successo Capita anche a me È mia No L'ho sentita io È il mio market Tienitelo Lo schifo Allora dove andiamo? Non lo so ma ci muoviamo pure Perché magari ci abbiamo gente dietro A chiacchierare tranquilli Sì dobbiamo iniziare a concentrarci Siamo in 28 Eh infatti è arrivato il momento di giocartelo bene Vai Concentriamoci Oggi stiamo raccontando un botto di cose Abbiamo voglia di parlare Sì e poi stiamo lavorando dalle 8 del mattino Anzi io Perché Ferre si alza più tardi Io mi sono alzata alle 8 e 10 Eh ma hai iniziato a lavorare alle 9 Però alle 8 e 10 Perché io porto anche giù il cane Tu non porti giù il cane Vuoi portarlo giù il cane E ti chiamare e inizi a lavorare Io lavoro alle 8 E tu dà le 9 Faglieli fare tu i bisogni Poi ti sei andata 20 minuti dopo Ma io mi sono andata alle 7 e 30 Tu alle 8 e 10 Cara Ti sei fregata da sola Io la sveglio già alle 7 e 30 E ho iniziato a lavorare alle 8 Fatteli a fare i tuoi Ecco Non mi piace svegliarmi presto Castellini devono sapere Ciò che succede nel mondo Devono sapere Ma lo sanno tutti Che io non mi voglio svegliare la mattina Cioè vorrei dormire fino a tardi Ma non si può Perché sennò poi non escono i video Quindi Allora E' un disastro Niente Il deserto Magari in mare Vediamo qualcuno È partito bene Perché c'era un po' di azione Con quelli Manco bravi Quindi capito Eh perché è lo stesso Spiaggia snob Di quelle zone un po' Sì Ah capito Se tu ci sei voluto andare Io ti ho seguito Oh sentivo voglia di spiaggia snob Capita Vabbè ogni tanto ci sta Dai non è che dobbiamo stare sempre A fare chissà che cosa Ci sta Sto guardando la zona Allora la buona parte Anzi una piccola parte in mare Quindi qua almeno dobbiamo essere Tranquilli Per il mare Ok Non ci può essere nessuno Tutti da quella parte Staranno Siamo sicuramente nella parte opposta Rispetto a dove sono tutti i player Eh ho però visto A 120 nella montagna Una piccola costruzione Potenzialmente hanno visto Che nella zona erano dentro E si sono camperati lì In quella montagna Quindi io ti direi Gatto che non vediamo altro Andiamo lì per provare a lasciarli Ok Tanto male che vada Se ci sono E riusciamo a killarli Ci facciamo equipa Altrimenti perdiamo Ma non sono bullato Cioè non sono equipato così bene Da vincere Ma neanche io Quindi O uccidiamo qualcuno Oh questo non riesco più a parlare No è che sto parlando L'interrottamento da due ore Quindi La lingua non mi si muove più Ok Ok Player Non so se mi ha visto Sopra di noi 105 Stava saltellando Non ci ha visto Non ci ha visto Preparati Tutti e due li ho uccisi Ma dai Quello lo stavo uccidendo io Era una testa Steph Volei perdere shield? Sì Ok No non è vero Dai ce la siamo giocata bene Ok Io gli ho fatto un sacco di danno Infatti tu gli hai L'hai fan anche il lato Rubandomi Eh maz 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 Che poi ci dimentichiamo Dammi 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 Tieni Colpi del Del pompa Di un po' tutto anzi Grazie Tieni Thank you Tieni Thank you Andiamo Ok Abbiamo proprio preso la sprovvista Povera Sì stavano proprio andando via In quel momento Comunque cavolo Il tattico Anche viola Non fa danni L'ho preso in pieno due volte 80 Oh io l'ho colpito L'ho colpito tante volte Infatti non l'ho ucciso Davvero Però l'ho preferito Cioè l'ho Eh perché siamo scarsi col pompa È una delle armi che usiamo peggio Io vero Anika Sì 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 Specialmente io Infatti sto cercando di Di allenarmi un sacco eh Io quando sono sola Scendo vado Eh cerco di colpire tutti col pompa Allora Concentrati Siamo a 4 kill 16 vivi E la zona è abbastanza vicina Oh cavolo no Però vicina Nulla proprio Perché mancano 15 20 secondi Pedala Fere Pedala Hai sentito? Non era noi vero? No 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 stanno litigando Sotto di noi Però non possiamo fare troppi fight Stef Veloci nel caso eh 4 secondi È incredibile Cioè raga lo Ho buttato a terra Quello lì giù Che gli sparava Stef E non è morto subito Quindi accompagno Uno a terra Dobbiamo muoverci Io li vado addosso Fere vieni Sì Allora sono a terra Due team Una a terra E una a terra Dall'altra parte Questi non ci sono più C'è lo scar Scusami eh Vai 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 C'è 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 Lì A ovest Dietro esattamente questa casa C'era un pontino Ne ho preso uno dall'alto Ma non l'ho fan anche il lato Perché poi ho pensato ad aiutarti Quindi è successo così Quindi ci sono anche quelli Però se andiamo qui in alto Sì ma ci possono anche buttare giù Quindi muoviamoci Lo so Veloci 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 Cavolo che ansia Che ansia Io ho sparato con il caccia di un male Non lo so proprio usare Quell'arma Infatti la uso per quello È Da dove sta arrivando un missile? Ma soprattutto per noi Non lo so Io penso che si siano missati tra di loro C'è una fortezza Tra i 15 e i 30 Continui a controllarmi Quelli lì se si rivedano Per favore Sto tirando anche un medikit Stef Ok Ne ho tre Me lo tiro Poi non li vedo Boom Bravo Bello questo Allora quelli erano là Quindi dovremmo Se li vediamo Vederceli qui sotto Faccio una mini 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 costruzione Oh non li vado Ehm 2,85 Mi hanno sparato Ok Chissà dove si sono cacciati Sti due Non ho vision Forse gli altri L'hanno ucciso E quindi No non mi ha dato la kill Quindi no Non possono essere morti Sei tu Sì Sto facendo una mini forte E magari ci lasciavano Allora qui sotto c'è un airdrop Proprio sotto 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 Vabbè quelli stanno a fare un fight Magari ci vanno quelli del Di qual post Allora 2,85 mi hai detto Vero? È appena finito un fight Tra 3,30 e 3,45 Ok Che è l'unica cosa che ti posso garantire E noi siamo dentro la nuova zona Bueno Bueno Finalmente un po' di fortuna Per quanto riguarda la zona finale Se ti muovi ti do al volo un Sì Aspetta che esco da dietro Non voglio essere uccisa Gente Dov'è? Qui sopra Eccolo Cavolo Schifo quel lanciarazzi Schifo Due missili faccia Mi ha tirato Vieni 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 Porca miseria Lo sapevo che stava arrivando Ma non l'ho sentito Bisare fino all'ultimo Io non ero pronto Vieni qui 8 kill Io 2 3 vivi 8 kill totali Ah scusa Le conti già Che noi Mi metto qui sotto e mi cura Ok Ci sono ce lini Tu mi hai fatto No no ce li ho Mi hai fatto vieni vieni Quindi mi sono trovata impreparata Con questo qua che mi ha lanciato un missile in bocca Cioè vabbè Per fortuna Stanno ancora fightando lì Fare i bende Ho un medikit Dammelo 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 veloce Tieni 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 E adesso vai a sparare Ok Cioè controlla eccetera eccetera Non farti sniperare Dietro non controllo No dovremmo essere due contro due Fare Ok E sono quelli là no? Sì Chissà con gli altri due Che fino hanno fatto Ho 51 colpi Ok li vedo costruire Sì vedo Pronta? Ma sono ancora in quella torre alta? Mi sembra No Uno giù lo vedi? No non ho visione da qui Dimmi gradi Colpito una volta Buono Ah eccoli eccoli lì giù Sì 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 Mi raccomando fare Siamo noi dentro la zona Siamo in vantaggio Quindi è un'ottima cosa Sì calma Sì sono calma Costruisco un po' più in alto però Ok Uno giù Uno è morto Uno è morto Uno è morto Due v uno Dai Quella era da solo che lutava tutti Cavolo Non è che è dietro Da dove? Quel colpo di RPG Non l'ho sparato io Non lo so Dove cavolo è? Dai due vittorie oggi Dai che sarebbe bellissimo Ah lo vedo Dove? Tolgo quest'albero Lo vedi Lo vedi? Colpito una volta Shield Ok ok Giustamente sta riparando Pare che però lì siamo dentro Lo so Quindi è un'ottima cosa E a mo' deve stare lì dietro Ok bravo Io sono pronta a sparare Dov'è? 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 È andato sotto le miniere probabilmente È andato sotto Ha provato a sniperarmi Ok Io ho spattito Non ho visione Eccolo Eccolo L'albero Prevedo verso dove va Mamma mia quanto Quanto stai a costruire Colpito Colpito Io ho tolto un sacco di shield Probabilmente tutto Le abbiamo tolto L'albero Brava Ok È qui sotto Ha provato a sniperarmi È bravo È stato giocare bene Sì sì Infatti abbiamo stato concentrati Finendo i colpi Tranquilla L'ho colpito L'ho colpito Ancora shield No Ha solo vita Il problema è che è un colpo Vabbè Mitraglietta Preso Preso Bravi Due vittorie Dieci kill Due vittorie Bravi Cavolo Oggi siamo andati bene Tanti endgame Due vittorie Quante kill in tutto 8, 9, 10 Dieci Dieci Bravi Mi sento bene Mi sento bene Perché poi noi solitamente Questi allenamenti Li facciamo Cioè da soli Invece è divertente In video è un'ansia Ti gasi di più in live Voi pensate All'ansia che avete Quando ho fatto un game Perché avete paura di morire Di rovinare tutto Eccetera eccetera Un video Se morite E non è interessante Il gameplay Quindi morite tipo A dieci minuti di gameplay Dovete cancellarlo E riniziare Quindi abbiamo L'ansia di morire E l'ansia di cancellare il video In live è un po' più rilassante È un po' più facile Sì infatti È come se rigiocassimo Da soli Però con compagnia Comunque Due vittorie E mi sa due volte secondi È un totale di circa 30 kg oggi